Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Allora ragazzi, oggi ci siamo. Oggi voglio andare a... faccio questo video perché ero interessato a un argomento particolare. Praticamente siamo già a maggio e questo significa solo una cosa per noi amanti dei picchiaduro. Il Combo Breaker 2023 sta arrivando. Ci ho pensato così per puro caso stamattina, ci ho pensato. Sono andato sul sito ufficiale ed è già disponibile la line-up dei giochi che saranno presenti effettivamente al torneo. Andiamola a vedere insieme. Allora. Allora, andiamola a vedere un attimo insieme. Un secondo soltanto, ragà. Pardon. Eccola qui. Devo dire, la lista, anche questa, non è... Non è poco. Cioè, abbiamo Killer Instinct, The King of Fighters 15, Mortal Kombat 11 Ultimate, Skullgirls Second Anchor, Street Fighter Traveller Strike, vabbè che non può mai mancare, Guilty Gear Strive, Dragon Ball Fighters, BlazBlue Cross Tag Battle, Virtua Fighter 5, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 5, Street Fighter 5 Champion Edition, Melty Blood Type Lumina, Dance Fighting Hearts, Guilty Gear Xrd Rev 2, Bra Lalla, Incredibile ma vero, Bra Lalla, Tekken 7, vabbè raga, Tekken 7, Granblue Fantasy Versus, che tra l'altro l'ho comprato giusto l'altra sera, che l'ho trovato in sconto su Steam a 2€, Multi Versus, Vampire Savior, Super Smash Bros. Smitty, abbiamo pure qualche novità, vabbè, Ultimate, Summer Showdown, Rushdown Revolt, ci sta, questa è una novità, Prime Rage, è una novità, effettivamente ancora non si era visto, per chi non se lo ricorda raga, è un picchiaduro del 1997, mi sembra, è uscito su Playstation 1, 97-98, è un picchiaduro 2D con i dinosauri, Chicago's Famous Mystery Tournament, vabbè, questa è stata una serie di tornei del cazzo, DNF Duel, Under Night in Birth, Accelate CLR, Ultimate Marvel vs Capcom 3, e Blaze Blue Central Fiction, e questi sono i tornei della line-up principale, se andiamo a vedere i community events, ragazzi, apre un altro mondo, ovvero i community events sono quei tornei messi insieme dalla community, dalle varie community dei giochi, ecco, qui abbiamo tutti i tornei, abbiamo, eh, devo dire, ragazzi, è una bella sorpresa, i titoli che ho visto, abbiamo NeoTurf Master, vabbè, il Mystery Game 2v2, Melty Blood Actress Again, Persona 4 Arena Ultimax, Guilty Gear XX Accent Core Plus R, Super Smash Bros. Ultimate, però questa volta è in double, quindi un 2 contro 2, Advanced VG2, questo ragazzi è un bellissimo gioco per la PS1, se vi interessa vederlo, vi ricordo, ragazzi, che l'ho fatto, l'ho fatto anche sul canale, in una delle puntate di Sator of the Night, One Must Fall, che questo non lo conosco, JoJo All Stars Battle R, eh, abbiamo anche delle novità, Fighting Reapers 2, Fighting Reapers 2, ragazzi, questa è una bella novità, noi abbiamo Tatsunoko vs Capcom, Rivals of Eater, Parting Fest Limit Over, eh, alcuni non li conosco, Touching Glove Arena, Tag Glove Arena, questo l'ho visto, vabbè, il buon Grandi, il buon Marvel vs Capcom 2, che verranno, ah, verranno, i canali verranno, ah, ok, i tornei verranno streammati in base al canale, Bloody Roar Extreme, signori, avremo Bloody Roar, poi abbiamo Pokken Tournament, Dragon Ball Z, Serio, Uuuuh, Street Fighter Cross Tekken, ritorna a questo gioco, Soul Calibur 6, e poi, per quanto riguarda la domenica, avremo, abbiamo un bel po' di giochi, Naruto, Super, Super Naruto 4, Clash of Ninja, ah, ci sta, ah, questo è bello, TMNT Cross Justice League Turbo, ragà, questo, ragà, se non l'avete mai giocato, adesso, dovete scaricarvelo, scaricarvelo, è un, è un gioco simile Mugen, dico simile, perché, ha lo stesso motore, però, è una versione modificata, non, non l'ho capito neanche io, praticamente, vi spiego, questo gioco, se non lo conoscete, è un mix, di due picchiature, anni 90, usciti su Super Nintendo Mega Drive, ovvero, Teenage Mutant Ninja Turtles, Tournament Fighters, e Justice League Task Force, consiglio di provarli entrambi, Dengenbunko Fighting Climax Initon, grande, Force Fighters, questo non l'ho mai sentito, questo lo devo, poi me lo vado a cercare, Marvel Infinite, ancora fanno torne di sta schifezza, e andiamo giù, Nickelodeon All Stars Brawl, Punch Planet, questo, ragà, l'avevo visto, e mi incuriosiva, parecchio, lo stile di gioco, e lo stile grafico, però poi lo proverò, Mortal Kombat X, Ultra Street Fighter 4, Project Plus, cioè, e questi sono, ah no no, non è fine, non è fine, ragà, poi abbiamo, per finire abbiamo, Toe Owe Project, che, non so qual è questo, e Lethal League Blaze, credo che abbiamo, sì, abbiamo visti tutti, insomma, ragazzi, la line up di questo Combo Breaker, sembra essere davvero, davvero ampia, quest'anno, e credo che, ne vedremo davvero, delle belle, credo che ne vedremo, davvero, delle belle, al torneo di quest'anno, poi, comunque, ragà, cioè, da mo' fino, all'uscita del, fino a quando sarà, effettivamente, che uscirà il torneo, cioè, ne passa di tempo, infatti, ragà, vabbè, tutti gli hotel disponibili, per quanto riguarda gli hotel, sono quasi tutti sold out, cioè, letteralmente, quindi, cioè, ragà, la, comunque, scherzi, a parte, la line up, è sempre più, è sempre più incredibile, anche perché, il, da quello che comunque ho notato io, il Combo Breaker, vabbè, è nato come torneo, nel 2015, è nato, però, effettivamente, si sono iniziati a vedere, i primi tornei, ad essere stati caricati, su YouTube, sono stati dal 2018, in poi, quello che, 2017, 2018, in ogni caso, ragà, è un torneo, veramente incredibile, ragà, cioè, è forse il secondo torneo americano, più importante, subito dopo il CEO, subito dopo il CEO, è il secondo torneo americano, più importante, questo, e, lo dimostra anche il fatto, che partecipino, ai vari tornei, anche gente al di fuori, del continente americano, infatti, ci sono i canadesi, ci sono, ci sono addirittura, gli asiatici, come i giapponesi, i coreani, e, indipendentemente dai vari giochi, io, vabbè, finora, dei tornei del Combo Breaker, ho sempre seguito, quasi, esclusivamente, i tornei dei giochi retro, quindi, Vampire Savior, 3S, 2X, difficilmente, ho visto i tornei, degli altri giochi, ho guardato, oddio, qualcosina di Killer Instinct, l'ho anche guardata, per quanto riguarda gli anni scorsi, però, in generale, mi sono sempre più interessato, alla parte retro del torneo, che alla parte effettiva, in ogni caso, ragazzi, io vi dico, sarei curioso, di guardarlo in diretta, però, come ho fatto in passato, se vi ricordate, no, su Twitch, l'anno scorso, abbiamo effettivamente guardato, l'intero Combo Breaker, di 3S, abbiamo guardato, però, ragazzi, non vorrei incasinarmi, con cazzi di copyright, minchiade varie, per il resto, ragazzi, magari potrei fare, un video considerazioni, potrei fare, sì, lo so, avevo detto la stessa cosa, anche del Frosty Postings, che poi non ho più fatto nulla, perciò, mi regolerò, sulla faccenda, in ogni caso, ragazzi, la line up, cioè, è assurda, perché, non tanto per i giochi principali, comunque, i giochi sono bene o male quelli, ma quanto, ma quanto la line up, dei, 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 dei community tournament, cioè, ovvero, tutti quei giochi supportati, dalla community, cioè, mi sorprende, ragazzi, mi sorprende la cosa, perché, in questo modo, ragazzi, veramente, si ha la possibilità, di vedere giochi, del quale, non ci sarebbe mai aspettato, francamente, sono onesto, per il resto, ragazzi, ditemi la vostra, nei commenti, chiedemi cosa ne pensate, dei tornei presenti, quale vorreste vedere voi, insomma, ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciarmi un like, e un commento, iscrivetevi al canale, commentate, condividete, e noi ci rivediamo alla prossima.